Mercoledì 30 novembre, Santa Andrea. È il 335esimo giorno dall'inizio dell'anno e mancano 31 alla fine. Il sole sorge alle 7 e 29, tramonta alle 16 e 30. La luna si leva alle 7 e 56, tramonta alle 17 e 35. Con grande gioia dei veneziani, il concittadino Angelo Correr, patriarca di Costantinopoli, sale sul sogno papale con il nome di Gregorio XII. Le previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti nuvoloso per nobi alte e strati formi. Durante l'ore più fredde, probabili foschie o i locali nebbia in pianura e in qualche fondo valle. Precipitazioni assenti. In pianura temperature senza variazioni di rilievo, con diffuse gelate nelle ore più fredde. In montagne per lo più stazionari e nelle valli, in ulteriore aumento in quota con aree relativamente mite. Marcate in versione termica in pianura e nelle valli, specie nelle ore più fredde.